La Lega ha fatto delle affermazioni precise, le ha fatte bossi, ma poi si tratta di documenti scritti, poi è circolato un volantino in cui si pretende la riforma fiscale, a noi si prometteva la fiscalità di vantaggio, introduciamo un tema, chi se ne occuperà più, se non una forte formazione politica che sappia scendere in campo e minacciarli di mandarli al diavolo una volta per tutte, uno, seconda cosa, non so se si farà una riforma fiscale, mi pare che Tremonti è abbastanza perplesso, se non contrario, uno, seconda cosa, hanno chiesto il trasferimento di ministeri al nord, oltre che essersi schierati come mi schiero contro io, parliamoci chiaro, Alemanno, che so io, il sindaco di Roma, il Presidente della Regione Lazio, piuttosto che dire che vogliamo un ministero a Palermo, piuttosto che uno a Catania, non diciamo ridicolaggini, evitiamo di cadere nel ridicolo, se qua, vogliono rompere l'Italia, benissimo, ci si siede attorno a un tavolo e ogni regione piglia la sua strada, noi per la verità in più della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e di tutta la Padania, abbiamo il precedente dell'autonomia, un'autonomia che non abbiamo saputo fare funzionare perché non ci siamo dotati di una forza politica autonoma e autonomista, perché l'autonomia nelle mani dei partiti centralisti e dei suoi uomini siciliani, è chiaro che non può funzionare, perché i partiti centralisti tutto vogliono tranne che funzionino le autonomie, finalmente abbiamo un movimento e un partito autonomista e allora, se la Lega non dice sciocchezze, lo ha messo nero su bianco, non c'è dubbio che questo governo fra qualche giorno cadrà, perché siccome per sopravvivere non si potrà consentire il lusso di portare a Milano o a Monza nessun ministero, è chiaro che la Lega staccherà alla Spina, se pensa di portare al nord i ministeri finisce l'Italia unita e sarebbe singolare assistere a questo spettacolo in occasione del 150esimo anniversario della cosiddetta unificazione, io dico cosiddetta perché poi se ne è tanto parlato, non è il caso assolutamente di tornarci, quindi la smettano i leghisti, Berlusconi si chiarisca le cose, lo faccia se è possibile prima di domani, post domani quando ci saranno questi voti importanti nel Parlamento, oppure se così si deve andare avanti, per carità io non critico, non dico la Lega fa il suo mestiere, la Lega è nata per questo e ieri credo in uno dei telegiornali che ho visto, che dedicavano giustamente dei servizi a questa iniziativa della Lega di Pontida, sentivo gridare da parte di tutti secessione, secessione, qua c'è poco da fare, o il governo pur di restare in sella vuole questo risultato e la secessione vuole dire i ministeri al nord e per carità e allora se secessione deve esserci, ci si siede attorno a tavola e si vede quello che si deve fare, una volta per tutte capiamo se la secessione nuace di più al nord oppure finisce di nuocere al sud, non è quello che voglio, oppure si prenda atto, che questo governo non tira, non tiene, che in un momento di grande difficoltà per il PDL, per Berlusconi, per il Paese, la Lega pone una condizione che non può essere assolutamente assicurata e allora si darà luogo a un governo di unità nazionale, a un governo che ci faccia superare questo momento di grande crisi, corregga uno dei difetti di questa finta democrazia che è la legge antidemocratica della imposizione dei deputati, introduca un sistema proporzionale con tutti i correttivi che garantiscono la stabilità, sarà la sfiducia costruttiva, sarà quello che si vuole, garantisca ai cittadini di scegliersi parlamentari, i quali finalmente riprenderanno a servire il loro popolo piuttosto che i capi che li designano nei posti utili delle varie liste e allora con questo governo di salute pubblica, di unità nazionale e di risanamento economico e morale del nostro Paese, poi chiaramente si potrà andare al confronto elettorale quando questo governo avrà esaurito la sua funzione. Io vedo la vicenda di Pontida di ieri esattamente in questi termini, come l'anticamera della caduta di questo governo, perché se la Lega non dà seguito a quello che si è impegnata a fare è chiaro che la Lega salta ed esplode più che implodere e allora prepariamoci, non ad andare a votare domani mattina con questa situazione economica drammatica, con una condizione di pre-Grecia, con un debito pubblico che è incontrollabile, con una crescita industriale che non c'è, con un bipolarismo che è antidemocratico e non fa crescere il Paese, ma andiamo incontro ad un governo di grande sintesi che porti al superamento di questa condizione, io credo che non abbiamo alternative a questo sbocco.